Per vendere una casa donata ci vogliono almeno 20 anni, ma è davvero così? Facciamo chiarezza su questo punto. In realtà non è vietato venderla, ma possono sorgere dei problemi. Infatti uno degli eredi potrebbe contestare la donazione se non ha ricevuto la quota minima di eredità che gli spetta per legge. Questo significa che se avete venduto la casa, l'acquirente rischia di dover restituire l'immobile anche se l'ha già pagata. Ma allora come si può risolvere? Una possibile soluzione è far firmare agli eredi un atto di rinuncia alla donazione. In questo modo l'acquirente, con la sicurezza che nessun erede potrà contestare la donazione, può procedere con tranquillità all'acquisto dell'immobile. Ed anche la banca sarà più incline a derogare il mutuo. Attenzione! Questa è una delle possibili soluzioni. Hai altre domande su come comprare o vendere casa? Scrivele pure nei commenti.